amore? amore? va a casa? amore? 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 ma dov'è finita? amore? vabbè mi rilasserò un attimo amore? oh! hai da fare? in realtà mi volevo rilassare allora alzati dai che mi devi dare una mano forza va bene amore ho bisogno di aiuto in cucina ma che c'è il radar c'è? dai se non ho niente da fare vieni aiutami vivo forza amore vieni a darmi una mano amore? amore sei impegnato? ho bisogno di aiuto vuoi che ti faccio un disegno? amore non è che mi daresti una mano con il lavello? amore dai non vedi? mi sto rilassando un attimo fai da solo amore! 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 am